Pace e gioia, fratelli e sorelle. Il Vangelo che oggi viene proclamato durante la Santa Messa è tratto dal Vangelo secondo Matteo, il capitolo 15, dal versetto 29 al versetto 37. Ci dice Matteo che attorno a Gesù si radunò molta folla, pregando con sé zoppi, storfi, ciechi, sordi e molti altri malati. E poi Matteo continua dicendo Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse sento compassione per la folla. Questo brano di Vangelo che oggi il Signore ci dona vuole essere per noi motivo di gioia, la forza per rialzarci dalle nostre situazioni. Tante volte noi ci rivediamo in questi ammalati, in questa folla che va da Gesù. Tante volte siamo zoppi, non riusciamo a camminare nella via della vita, nella via della santità. Siamo ciechi, non riusciamo a vedere l'azione del Signore nella nostra vita. Siamo sorti perché presi dalla confusione del mondo, dalla confusione dei nostri problemi e non ascoltiamo il Signore. In questa situazione che noi viviamo il Signore ci dice che Lui ha compassione. Sì, Gesù oggi ti dice ha compassione per te, per te che vivi queste situazioni di malattia, di sofferenza, di tristezza. Avere compassione significa compatire, cioè patire con. Gesù è lì dove tu stai soffrendo, Gesù è lì nella tua tristezza, Gesù è lì nella tua malattia e Lui ha compassione per te e oggi il Signore ti vuole rialzare da questa situazione. Oggi il Signore ti dice che Lui ti è vicino. Devi solo tendere la mano verso il Signore e il Signore oggi si fa Cireneo per te, ti aiuta a portare la croce. Oggi il Signore si fa Samaritano per te, si china sulle tue ferite, sulle tue sofferenze, sulle tue difficoltà e Lui ti rialza, ti prende tra le sue braccia e ti dà la forza di andare avanti. Allora viviamo questa giornata con questa certezza. La certezza che non siamo soli, che il Signore è con noi, che Lui viene ogni giorno nella tua vita, nella vita mia, nella nostra vita. E nel nome del Signore io ti benedico. Ti benedico in ogni situazione di questa giornata. Ti benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna e la sua misericordia. Here vi go... I